Eccola qui Antonella Palmisano per centrare il loro titolo italiano assoluto nella carriera e va a chiudere vittoriosamente questa gara, al tempo stiamo per comunicarvelo in attesa del riscontro cronometrico ufficiale, applaude anche il DT Antonio Latore, lo vediamo sulla sinistra 41.28, il tempo ufficiale di Antonella Palmisano va a togliere 10 secondi alla migliore prestazione italiana assoluta di Rossella Giordano quindi cade un limite italiano in questa mattinata qui a Modena, Antonella Palmisano dopo il limite italiano sui 10.000 metri su pista va a prendersi anche il limite italiano nella 10 km su strada, tra l'altro con un tempo decisamente più veloce 41.28 su pista, aveva marciato in 41.57.24 se non ricordo male, 41.57.29 per l'esattezza il successo di Antonella Palmisano, l'olo titolo italiano assoluto per lei, il secondo dei 10 km su strada perdone per questo successo che va a confermare la grande prestazione messa in scena a Pontebradi 8 giorni fa titolo italiano assoluto per Antonella Palmisano, migliore prestazione italiana assoluta sulla 10 km 41.28, 10 secondi meglio rispetto a Rossella Giordano 23 anni fa tra le altre cose un ultimo km da 4.04